Buongiorno a tutti. Il video di oggi è dedicato al numero attualmente in edicola di salute naturale che tratta il tema delle artrosi e dei dolori articolari. Sono i temi di stagione. Il clima inizia ad irrigidirsi e come si irrigidisce il clima si irrigidisce la struttura osteomuscolare. In questo senso quindi si va indebolendo a qualche cosa che ha per natura sua necessità di essere elastico e quindi iniziano dei piccoli grandi problemi. Tendini, muscoli, legamenti non svolgono più la loro funzione quindi non sostengono bene l'apparato osseo che comincia a risentirne. In particolare poi all'interno delle articolazioni le cartilagini soffrono anche di un altro problema che è il carico infiammatorio dovuto in buona parte al tipo di alimentazione che noi abbiamo, insaccati, formaggi, carni, aggiungiamoci conservanti, zuccheri raffinati, eccessi di sale, finiscono per produrre tanti radicali liberi e quindi questi si depositano e creano uno stato infiammatorio, infiammatorio cronico. Se aggiungiamo che in molti casi, in molti di questi casi tendiamo a ricorrere agli antinfiammatori di sintesi, i farmaci antinfiammatori per eliminare rapidamente il disagio e il dolore, entriamo in un loop, in un circolo vizioso dove queste sostanze creano facilmente dei depositi tossici, dei residui tossici che ancora una volta diventano elemento su cui l'infiammazione progredisce. Cosa fare in questi casi da un punto di vista naturale? L'obiettivo è di ammorbidire e rielasticizzare la struttura e sicuramente abbassare il carico infiammatorio, quindi ci sono dei massaggi analgesici che suggeriamo di fare per sciogliere articolazione e muscolatura contratta, ma anche applicazioni di sale caldo, ad esempio, così come un'importante opportuna reintegrazione di minerali, di integratori, utilizzo delle erbe, in modo tale da ricreare l'equilibrio che è venuto a mancare. Naturalmente poi le scelte alimentari sono importanti. Quindi questo è il tema di stagione centrale, stagione che va, dicevo, verso il raffreddamento e il rallentamento, quindi ci sono anche degli alleati del mese. Prendete la clorofilla, che è una sostanza capace di ridurre l'acidosi presente all'interno dei tessuti, ma anche tutte le sostanze che derivano dalla quercia. La forza di questo albero cosiddetto gigante è un qualche cosa che noi possiamo mutuare e utilizzare contro i disagi di stagione. E non ultimo lo zenzero, che è un antivirale per eccellenza che quindi in questo momento gioca un ruolo fondamentale. All'interno del numero troverete poi i CBC e i CBNO di stagione per questo mese, così come tutte le modalità per proteggere adeguatamente la pelle nei confronti degli insulti del freddo. Le risposte dei nostri esperti e lettori e tante altre oasi di servizi rendono ricco questo numero interessante da leggere. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci a un prossimo video.